Ho un problema con una diga. Ai margini della discarica trovammo un carroattrezzi così decrepito che probabilmente si era buttato via da solo. Ma il motore si accese e il serbatoio era mezzo pieno, perciò decidemmo di prenderlo in prestito. Talia si mise al volante. Non sembrava scioccata quanto me, Grover e Zoe. Quegli scheletri sono ancora là fuori da qualche parte, ci rammentò. Non dobbiamo fermarci. Ci guidò attraverso il deserto, sotto un cielo limpido, la sabbia di un chiarore abbagliante. Zoe sedeva davanti con Talia. Io e Grover ci eravamo sistemati dietro, sul pianale, appoggiati al gancio da rimorchio. L'aria era fresca e secca, ma il bel tempo sembrava una beffa dopo la perdita di Bianca. In mano stringevo la statuetta che le era costata la vita. Non riuscivo nemmeno a capire di quale Dio si trattasse. Nico l'avrebbe saputo. Oh dèi, cosa gli avrei detto? Volevo tanto credere che Bianca fosse ancora viva da qualche parte, ma avevo la brutta sensazione che se ne fosse andata per sempre. Doveva toccare a me, dissi. Dovevo entrarci io nel gigante. Non dirlo! Grover andò nel panico. Abbiamo già perso Annabeth, e ora Bianca. Pensi che riuscirei a sopportarlo se... tirò su col naso. Pensi che qualcun altro potrebbe essere il mio migliore amico. Ah, Grover! Si asciugò gli occhi con una pezza sudicia, sporcandosi come un soldato prima di andare in battaglia. Sto... sto bene. Ma non stava bene per niente. Fin dal suo incontro in New Mexico, o di quello che era successo al passaggio di quel vento selvatico, sembrava molto fragile, perfino più emotivo del solito. Avevo paura di parlargliene, perché temevo che sarebbe scoppiato a piangere. Quando hai un amico che si sconvolge più di te, però, almeno una cosa buona c'è. Non puoi permetterti di restare depresso a lungo. Capì che dovevo mettere da parte il pensiero di Bianca e andare avanti, proprio come stava facendo Talia. mi chiesi di cosa stessero parlando lei e Zoe davanti. Il carroattrezzi finì la benzina nei pressi di un canyon scavato da un fiume. Non faceva molta differenza dal momento che la strada si interrompeva là. Talia scese e sbatté lo sportello e una gomma si sgonfiò. Fantastico! E adesso? Per l'ustrail orizzonte. Non c'era molto da vedere. Deserto in tutte le direzioni, interrotto qua e là da grumi di montagne spoglie. Il canyon era l'unica cosa interessante. Il fiume in sé non era molto grande, una cinquantina di metri in larghezza forse, e l'acqua era verde, con qualche rapida. Però scavava una grossa cicatrice nel deserto. Gli alti argini rocciosi digradavano ripidi ai nostri piedi. C'è un sentiero, disse Grover. Potremmo raggiungere il fiume. Cercai di capire a cosa si riferisse e alla fine notai una minuscola sporgenza che scendeva tortuosa lungo il fianco del dirupo. Quello è un sentiero da capre, osservai. E allora? Rispose lui. Noi tre non siamo delle capre. Possiamo farcela, replicò Grover. Credo. Ci pensai su. Mi ero già arrampicato su una parete rocciosa in passato e non mi piaceva. Poi guarda Italia e mi accorsi di quanto fosse impallidita. Mi ricordai del suo problema di vertigini. Non ce l'avrebbe mai fatta. No, esclamai. Io penso che dovremmo seguire il fiume, controcorrente. Grover cercò di protestare. Ma coraggio, tagliai corto. Una camminata non ci farà male. Lanciai un'occhiata a Italia, che mi ringraziò con lo sguardo. Seguimmo il fiume per quasi un chilometro prima di arrivare a un pendio più dolce che scendeva verso l'acqua. Sulla riva c'era un chiosco di noleggio canoe che era chiuso per la stagione. Ma io lasciai una pila di dracme d'oro sul bancone e un biglietto che diceva «vi devo due canoe». «Dobbiamo risalire la corrente», annunciò Zoe. Era la prima volta che la sentivo parlare dopo la discarica. Il suo tono mi preoccupò. Sembrava che avesse l'influenza. «Le rapide sono troppo veloci». «A questo ci penso io», dissi e portammo le canoe al fiume. Talia mi prese da parte mentre ci procuravamo i remi. «Grazie per prima». «Non c'è di che». «Puoi davvero», indicò le rapide con un cenno del mento. «Lo sai». «Credo di sì. Di solito sono bravo con l'acqua». «Ti va di andare con Zoe?» chiese. «Credo che...» «Beh, forse potresti parlarle». «Non le piacerà». «Ti prego». «Non sono sicura di farcela a stare nella stessa barca insieme a lei. Sta... cominciando a preoccuparmi». «Era praticamente l'ultima cosa che mi andasse di fare». «Ma annui». Talia rilassò le spalle. «Ti devo un favore». «Due». «Uno e mezzo», ribatté. Sorrise e per un secondo mi ricordai che in realtà la trovavo simpatica, quando non mi urlava contro. Poi si voltò e aiutò Grover a spingere la canoa in acqua. Alla fine non ebbi nemmeno bisogno di controllare le correnti. Non appena entrammo nel fiume, guardai oltre il bordo della barca e incrociai lo sguardo di un paio di naidi. Sembravano due ragazze qualunque, del genere che si incontra in qualsiasi centro commerciale, solo che erano sott'acqua. «Ehi!» le salutai. Risposero con un gorgoglio che avrebbe potuto essere una risatina. Non ne ero sicuro. Facevo molta fatica a capire le naidi. «Vogliamo risalire la corrente», spiegai loro. «Potreste per favore...» Prima ancora che finissi la domanda, le naidi si scelsero una canoa a testa e cominciarono a spingerci controcorrente. La partenza fu così brusca che Grover cadde all'indietro, con gli zoccoli all'aria. «Detesto le naidi», brontolò Zoe. Uno zampillo d'acqua le schizzò il viso. Veniva da dietro la barca. «Farabutte!» Zoe afferrò l'arco. «Ehi!» esclamai. «Stanno solo scherzando!» «Maledetti spiriti dell'acqua! Non mi hanno mai perdonato!» «Perdonato per cosa?» Si rimise l'arco in spalla. «È successo molto tempo fa. Lasciamo stare. Risalivamo spediti la corrente, sovrastati dagli alti fianchi del canyon. Quello che è successo Bianca non è colpa tua», le dissi. «È mia. Sono stato io a lasciarla andare. Pensavo che sarebbe stato un buon motivo per permetterle di urlarmi in faccia e scuotersi di dosso quella depressione. Invece scrollò le spalle. «No, Persi. Sono stata io a trascinarla in questa impresa. Ero troppo ansiosa. Era una potente mezzosangue. E aveva anche un cuore gentile. Io... io pensavo che sarebbe stata il prossimo luogotenente. Ma il luogotenente sei tu!» Lei strinse forte la cinghia della faretra. Non l'avevo mai vista così stanca. «Niente dura per sempre, Persi. Guido le cacciatrici da più di duemila anni e non ho ancora imparato a usare il buonsenso. Perfino Artemide è in pericolo adesso. Senti, non puoi sentirti in colpa per questo. Se avessi insistito per accompagnarla, pensi che avresti saputo combattere contro qualcosa di così potente da catturare Artemide? Non avresti potuto fare nulla!» Zoe non rispose. «I dirupi lungo il fiume si stavano facendo più alti. Lunghe ombre calarono sull'acqua, rendendola molto più fredda, nonostante il giorno sereno. Istintivamente mi sfilai vortice dalla tasca.» Zoe guardò la penna con un'espressione addolorata. «Questa l'hai fatta tu?» dissi. «Chi te l'ha detto? L'ho sognato.» Mi studiò. Ero sicuro che mi avrebbe dato del pazzo, ma si limitò a sospirare. È stato un dono e un errore. «Chi era l'eroe?» chiesi. Zoe scosse la testa. «Non costringermi a pronunziare il suo nome. Ho giurato di non nominarlo mai più.» «Ti comporti come se io lo conoscessi?» «Sono sicura di sì, eroe. Voi maschi non volete essere tutti come lui.» Lo disse in tono così amareggiato che decisi di non chiederle spiegazioni. Posei lo sguardo su vortice e per la prima volta mi chiesi se non fosse maledetta. «Tua madre era una dea dell'acqua?» chiesi. «Sì, Pleione. Ha avuto cinque figlie. Me e le mie sorelle. Le esperidi.» «Vuoi dire, le ragazze che vivevano nel giardino ai confini dell'Occidente? Quello con l'albero dei pomidoro e il drago.» «Sì, quelle.» confermò Zoe con una punta di rimpianto. «E il drago si chiama Ladone.» «Ma le sorelle non erano solo quattro?» «Ora sì. Mi hanno esiliata.» «Dimenticata.» «Cancellata.» «Come se non fossi mai esistita.» «Perché?» «Zoe indicò la mia penna.» «Perché ho tradito la mia famiglia per aiutare un eroe.» «Non troverai neanche questo nella leggenda. Lui non ha mai fatto il mio nome.» «Dopo che il suo attacco diretto all'adone fallì, fui io a suggerirgli come rubare i pomi e ingannare mio padre.» «Ma lui si prese tutto il merito.» «Ma… glu glu», disse l'anaillade nella mia testa. La canoa stava rallentando. Guardai avanti e capì perché. Non potevamo portarci oltre. Il fiume era bloccato. Una diga immensa grande quanto uno stadio di calcio ci sbarrava il cammino la diga di hoover disse talia è enorme eravamo sulla sponda del fiume lo sguardo fisso sull'ampia curva di cemento che ci sovrastava in cima alla diga c'erano delle persone che camminavano sembravano delle pulci le naia di ci lasciarono brontolando non riuscì a capire cosa dicessero ma una cosa era chiara odiavano quella diga che bloccava il loro bel fiume le nostre canoe si allontanarono con la corrente roteando sulla scia dei condotti di scarico 221 metri di altezza declamai costruita negli anni 30 35 miliardi di metri cubi d'acqua aggiunse talia grover sospirò la più grande opera di ingegneria civile degli stati uniti zoe ci guardò sbalordita come fate a sapere tutte queste cose annabeth risposi aveva una passione per l'architettura andava matta per i monumenti confermò talia balaterava sfilze di dati in continuazione singhiozzò grover una vera rottura vorrei che fosse qui conclusi io gli altri annuirono zoe ci stava ancora guardando in modo strano ma non mi importava sembrava proprio un destino crudele che fossimo arrivati alla diga di hoover una delle costruzioni preferite di annabeth e lei non fosse lì per vederla dovremmo salirci per lei proposi solo per dire che ci siamo stati tu sei matto decise zoe ma la strada passa proprio di lì indicò un grosso parcheggio accanto alla diga in alto perciò va bene faremo i turisti ci toccò camminare per almeno un'ora prima di trovare il sentiero giusto che sbucava sulla sponda orientale del fiume e una volta saliti in cima fumo costretti a tornare indietro per raggiungere la diga faceva molto freddo e tirava vento da una parte si stendeva un grande lago contornato dalle montagne spoglie del deserto dall'altra c'era la rampa da skateboard più pericolosa del mondo uno strapiombo di 221 metri sul fiume con l'acqua che spumeggiava dai condotti di scarico talia camminava in mezzo alla strada ben lontana dai bordi grover continuava a fiutare l'aria e sembrava nervoso non disse nulla ma sapevo che aveva percepito odore di mostri quanto sono vicini gli chiesi lui scosse la testa forse non tanto il vento sulla diga il deserto che ci circonda l'odore può aver viaggiato per chilometri ma viene da diverse direzioni non mi piace non piaceva neanche a me era già mercoledì mancavano solo due giorni al solstizio d'inverno e avevamo ancora molta strada da fare non avevamo bisogno di altri mostri c'è un bar al centro visitatori disse talia sei già stata qui domandai una volta per vedere i guardiani indicò l'estremità opposta della diga scolpita sul fianco del dirupo c'era una piccola piazza con due statue di bronzo somigliavano un po a due oscar con le ali furono dedicate a zeus quando la diga è stata costruita aggiunse talia un dono di atena erano circondate da una piccola folla di turisti che sembravano concentrati sui piedi delle statue che stanno facendo chiesi accarezzano i piedi dei guardiani rispose lei pensano che porti fortuna perché lei scosse la testa i mortali si fanno venire delle idee strambe ogni tanto non sanno che le statue sono sacre a zeus però sentono che hanno qualcosa di speciale quando sei venuta a vederle ti hanno parlato ti hanno dato qualche segno o roba del genere l'espressione d'italia si incupì intuivo che fosse proprio quello il motivo per cui aveva già fatto visita alla diga aveva sperato di ottenere un segno da suo padre di stabilire una connessione no non fanno un bel nulla sono solo delle grosse statue di metallo ripensai all'ultima grossa statua di metallo in cui ci eravamo imbattuti non era andata tanto bene ma decisi di non tirare fuori l'argomento sarà meglio desinare nel bar della diga disse zoe andiamo a cercarlo grover si lasciò sfuggire un sorriso desinare zoe lo guardò senza capire sì che c'è ho detto qualcosa di strano niente rispose grover cercando di restare serio in effetti anch'io gradirei desinare con delle patatine forse era perché eravamo tutti sfiniti fisicamente ed emotivamente ma cominciò a prendermi la ridarella e taglia e grover si lasciarono contagiare mentre zoe ci guardava esasperata basta io ci rinuncio sbottò ma non sembrava offesa probabilmente avrei continuato a ridere per tutto il giorno se all'improvviso non avessi un dito un sonoro il sorriso mi si spense in faccia mi chiesi se fossi stato l'unico a sentirlo ma anche grover aveva smesso di ridere si stava guardando intorno confuso sbaglio ho appena sentito una mucca la invitiamo a desinare con noi rise talia no rispose grover dico sul serio zoe tese l'orecchio io non sento nulla talia stava guardando me persi ti senti bene sì risposi voi andate avanti io vengo subito c'è qualcosa che non va chiese grover niente risposi datemi datemi solo un minuto per pensare esitarono ma dovevo sembrare piuttosto sconvolto perché alla fine entrarono al centro visitatori senza di me non appena se ne furono andati raggiunsi con una corsetta il bordo della diga che dava a nord e mi sporsi per guardare giù era a sei metri circa di profondità nel lago ma riuscivo a scorgerla chiaramente la mia amica bessie della baia di long island il serpente mucca mi guardai intorno c'erano dei gruppetti di ragazzini che correvano lungo la diga un sacco di anziani qualche famiglia ma nessuno sembrava ancora fare caso a bessie che ci fai qui le chiesi aveva un tono urgente come se stesse cercando di avvisarmi di qualcosa come hai fatto ad arrivare qua giù chiesi ancora eravamo a migliaia di chilometri da long island e centinaia di chilometri nell'entroterra era impossibile che avesse fatto tutta quella strada a nuoto eppure eccola lì bessie nuotò in cerchio e batte la testa contro il fianco della diga voleva che andassi con lei mi stava dicendo di affrettarmi non posso le dissi i miei amici sono dentro mi guardò con i suoi tristi occhioni bruni poi emise un altro mugito ruggente fece una capriola e scomparve nell'acqua esitai c'era qualcosa che non andava e lei stava cercando di dirmelo valutai l'idea di tuffarmi e seguirla ma poi mi irrigidi mi si drizzarono i capelli in testa guardai in fondo alla diga in direzione est e vidi due uomini che avanzavano lentamente verso di me indossavano delle mimetiche grigie che luccicavano su corpi scheletrici passarono in mezzo a un gruppo di ragazzini scansandoli in malo modo uno protestò ehi un guerriero si voltò e la sua faccia si trasformò per un attimo in un teschio strillò il ragazzino e si allontanò insieme agli altri corsi verso il centro visitatori ero quasi sulle scale quando udì stridere delle gomme sul lato occidentale della diga un furgone nero si era fermato con una sterzata in mezzo alla strada mancando di poco un paio di anziani gli sportelli si aprirono e uno dopo l'altro scesero altri guerrieri scheletro ero circondato feci le scale di corsa e sfrecciai oltre l'ingresso del museo la guardia di sicurezza al metal detector gridò ehi ragazzino ma io non mi fermai corsi tra le vetrine del museo e mi nascosi dietro a un gruppo di turisti cercai gli altri ma non riuscivo a vederli da nessuna parte dov'era quel bar del cavolo fermo gridò il tizio del metal detector l'unico posto dove andare era un ascensore insieme al gruppo di turisti mi infilai dentro mentre la porta si chiudeva scenderemo di 221 metri annunciò allegramente la guida era una guardia forestale con i capelli lunghi e neri legati in una coda e gli si fosse accorta che mi inseguivano non preoccupatevi signore e signori l'ascensore non si rompe quasi mai stiamo andando al bar le chiesi qualcuno dietro di me ridacchiò la guida si voltò a guardarmi e avvertì uno strano formicolio sulla pelle stiamo andando alle turbine giovanotto rispose la donna non hai ascoltato la mia affascinante spiegazione al piano di sopra o certo c'è un'altra uscita giù è un vicolo cieco rispose un turista alle mie spalle per amor del cielo l'unico modo per uscire è prendere l'altro ascensore le porte si aprirono sempre dritti gente esclamò la guida una guardia forestale vi sta aspettando in fondo al corridoio non ebbe altra scelta che accodarmi al gruppo e giovanotto mi chiamo la donna mi voltai si era tolta gli occhiali aveva degli inquietanti occhi grigi come nuvole temporalesche c'è sempre una via d'uscita per chi è abbastanza sveglio da trovarla le porte si chiusero con la guida ancora dentro lasciandomi là da solo prima che potessi riflettere troppo sulla donna nell'ascensore udì un ding dietro l'angolo il secondo ascensore si stava aprendo svelando un rumore inconfondibile l'acciottolio di denti di scheletro corsi dietro al gruppo attraverso un tunnel scavato nella roccia massiccia sembrava interminabile le pareti erano umide e l'aria ronzava per l'elettricità e il boato dell'acqua sbucai su un balcone a forma di u affacciato su una grande area magazzino una quindicina di metri sotto giravano le turbine era una stanza ampia ma non vedi nessun'altra uscita a meno che non volessi saltare in mezzo alle turbine e trasformarmi in un frullato di energia elettrica e non lo volevo un'altra guida stava parlando al microfono spiegando ai turisti come funzionava il rifornimento idrico del nevada pregai che talia zoe e grover stessero bene forse li avevano già catturati oppure se ne stavano a mangiare al bar del tutto ignari che fossimo circondati e che il loro amico persi era uno stupido mi ero intrappolato da solo in un buco a oltre 200 metri sotto terra mi feci strada tra la folla cercando di non dare troppo nell'occhio c'era un corridoio alla fine del balcone forse potevo nascondermi da qualche parte tenevo la mano su vortice pronto a colpire quando arriva in fondo avevo i nervi a pezzi arretrai nel piccolo corridoio che avevo visto da lontano e osservai il tunnel da cui ero venuto poi proprio alle mie spalle udì un ssh acuto come la voce di uno scheletro senza riflettere tolsi il cappuccio a vortice e mi voltai sferrando un fendente la ragazza che avevo appena cercato di affettare in due strillò e lasciò cadere il fazzoletto di carta oh mio dio gridò ammazzi tutti quelli che si soffiano il naso la prima cosa che mi passò per la testa fu che la spada non l'aveva ferita l'aveva attraversata di netto senza farle neanche un graffio ma tu sei mortale lei mi guardò incredula e questo che vorrebbe dire certo che sono mortale come hai fatto a far passare quella spada al metal detector della sicurezza io non aspetta un momento riesci a vedere che è una spada la ragazza alzò gli occhi al cielo erano verdi come i miei aveva i capelli crespi e rossicci e anche il naso era rosso come se avesse il raffreddore indossava una grossa felpa bordo di harvard e un paio di jeans coperti di segni di pennarelli e forellini come se passasse il tempo libero a infilzarli con la forchetta beh o è una spada o è il più grosso stuzzicadenti del mondo replicò e perché non mi ha ferito cioè non che mi lamenti chi sei e cavolo che ti sei messo è una pelle di leone quella mi aveva fatto tutte quelle domande talmente in fretta che mi sembrarono quasi delle sassate non sapevo cosa dire mi guardai le maniche per vedere se la pelle del leone nemeo fosse in qualche modo tornata al suo stato naturale ma a me sembrava il solito cappotto marrone sapevo di avere ancora i guerrieri scheletro alle calcagna non avevo tempo da perdere ma continuai a fissare stupito la ragazza con i capelli rossi poi ricordai quello che aveva fatto tali a west over hall per ingannare gli insegnanti forse potevo manipolare la foschia anch'io mi concentrai al massimo e schioccai le dita tu non vedi una spada disse alla ragazza questa è solo una penna sfera lei strizzò gli occhi no è una spada sciroccato chi sei domandai la ragazza sbuffò indignata rece l'elisabeth der ora ha intenzione di rispondere alle mie domande o devo chiamare la sicurezza no replicai io cioè vado un po di fretta sono nei guai nei guai eh già guardò oltre la mia spalla e sgranò gli occhi il bagno dietro di me ora non so perché ma le diedi ascolto mi infilai nel bagno degli uomini e lasciai rece l'elisabeth der fuori a ripensarci dopo mi sembrò un gesto codardo ma sono anche piuttosto sicuro che mi abbia salvato la vita udì l'acciottolio e i sibili degli scheletri che si avvicinavano rinsaldai la presa su vortice che mi era saltato in mente avevo lasciato una ragazza mortale a morire davanti al bagno mi stavo preparando a balzare fuori quando rece l'elisabeth der cominciò a parlare a macchinetta nel suo stile oh mio dio avete visto quel ragazzino era ora che vi faceste vivi ha cercato di uccidermi aveva una spada per l'amor del cielo ma io dico come avete fatto a lasciare entrare un pazzo armato di spada in un monumento nazionale insomma cavolo è scappato da quella parte verso quei cosi come si chiamano le turbine ha scavalcato mi pare forse è caduto gli scheletri batterono i denti eccitati sentì che si allontanavano rachel aprì la porta via libera ma è meglio che ti sbrighi sembrava sconvolta aveva la faccia terrea e sudata sbirciai dietro l'angolo tre guerrieri scheletro stavano correndo in fondo al balcone la strada verso l'ascensore sarebbe rimasta libera per qualche secondo ti devo un favore rece l'elisabeth der ma quelli cos'erano chiese sembravano scheletri lei a noi imbarazzata fatti un favore le dissi scordatelo scordati di avermi mai visto devo scordarmi anche che hai cercato di uccidermi sì pure quello ma tu chi sei persi cominciai a dire poi gli scheletri si voltarono devo scappare che razza di nome è persi devo scappare sfrecciai verso l'uscita il bar era pieno di ragazzini che si godevano la parte migliore della gita il pranzo talia zoe e grover si stavano sedendo proprio in quel momento con i vassoi pieni dobbiamo andarcene dissi col fiato grosso subito ma abbiamo appena preso i burritos protestò talia zoe si alzò in piedi mormorando un'imprecazione in greco antico ha ragione guardate le finestre del bar giravano tutt'attorno al piano della panoramica offrendoci una splendida vista sull'esercito di scheletri che era venuto ad ammazzarci ne contai due sul lato orientale della diga che bloccavano la strada per l'arizona altri tre erano sul lato occidentale a guardia del nevada tutti erano armati di manganelli e pistole ma il nostro problema immediato era molto più vicino i tre guerrieri scheletro che mi avevano inseguito nella sala delle turbine erano appena comparsi sulle scale mi videro in fondo al bar e ci fu il solito acciottolio di denti l'ascensore suggerì grover ci slanciammo da quella parte ma le porte si aprirono con un grazioso ding e ne uscirono altri tre scheletri tutti i guerrieri rispondevano all'appello tranne quello che bianca aveva mandato in fiamme in new mexico eravamo completamente circondati poi grover ebbe un'idea brillante decisamente da lui battaglia al burrito strillò e scagliò il suo grand guacamole contro lo scheletro più vicino ora se non siete mai stati colpiti da un burrito volante ritenetevi fortunati in termini di proiettili micidiali non ha niente da invidiare a bombe a mano e palle di cannone il lancio di grover centrò il bersaglio e gli staccò di netto la testa dalle spalle non so che cosa videro gli altri ragazzi del bar ma andarono su di giri e cominciarono a lanciarsi burritos patatine e bibite all'impazzata strillando e gridando gli scheletri cercarono di puntare le pistole ma era inutile c'erano corpi cibo e bevante che volavano dappertutto nel caos generale io e talia ci avventammo contro gli altri due scheletri sulle scale e li facemmo volare sul tavolo dei condimenti poi ci scaraventammo tutti giù con i burritos che fischiavano sopra le nostre teste e adesso chiese grover quando irrompemmo fuori non sapevo cosa rispondere i guerrieri sulla strada si stavano avvicinando da entrambe le direzioni corremmo verso il padiglione con le due statue alate di bronzo ma così ci ritrovammo con le spalle contro la montagna gli scheletri si fecero avanti attorniandoci in una mezza luna i loro compari stavano accorrendo al bar uno si stava ancora aggiustando il teschio sulle spalle un altro era ricoperto di ketchup e mostarda altri due avevano dei burritos incastrati fra le costole e non ne sembravano molto entusiasti estrassero i manganelli e avanzarono quattro contro undici mormorò zoe e loro non possono morire è stato bello rischiare la pelle con voi ragazzi dichiarò grover con voce tremante colsi uno scintillio con la coda dell'occhio mi voltai a guardare i piedi delle statue cavolo esclamai che dita brillanti persi sbottò talia non è il momento ma non riuscivo a trattenermi dal fissare quei due giganti dalle ali immense con le piume affilate come tagliacarte il tempo li aveva un po anneriti ma i piedi facevano eccezione luccicando come monetine per tutte le volte che i turisti li avevano strofinati come porta fortuna la fortuna sì la benedizione di zeus pensai alla guida in ascensore ai suoi occhi scuri al suo sorriso che cosa aveva detto c'è sempre una via d'uscita per chi è abbastanza sveglio da trovarla talia dissi prega a tuo padre lei mi fulminò con lo sguardo non risponde mai solo per questa volta la supplicai chiedigli aiuto penso penso che le statue possano portarci un po di fortuna sei scheletri alzarono le pistole gli altri cinque si fecero avanti con i manganelli 15 metri 12 fallo gridai no rispose talia non mi risponderà stavolta è diverso chi lo dice esitai atena credo talia aggrottò la fronte come se fosse certa che stessi impazzendo provaci la supplicò grover alla fine talia chiuse gli occhi muovendo le labbra in una muta preghiera io mi rivolsi alla madre di annabeth sperando di avere ragione e che la donna in ascensore fosse davvero lei e che stesse cercando di aiutarci a salvare sua figlia ma non successe nulla gli scheletri si avvicinavano sempre di più sollevai vortice pronto a difendermi talia levò lo scudo zoe si spinse grover alle spalle e puntò una freccia contro la testa di uno scheletro un'ombra calò su di me pensai che forse era l'ombra della morte poi mi resi conto che era quella di un'ala enorme gli scheletri alzarono lo sguardo troppo tardi un lampo di bronzo e cinque armati di manganello furono falciati di lato gli altri scheletri aprirono il fuoco sollevai la pelliccia per proteggermi ma non ce ne fu bisogno i guardiani di bronzo si misero davanti a noi e spiegarono le ali a mo di scudo i proiettili ci rimbalzarono sopra come pioggia su un tetto di lamiera ondulata poi con un colpo d'ali fecero volare gli scheletri in fondo alla strada ah finalmente in piedi esclamò il primo angelo la voce suonava metallica e arrugginita come se non avesse più bevuto un goccio dal giorno in cui era stato costruito mai visto che piedi rispose l'altro per il divino zeus ma che accidenti hanno quei turisti nella zucca per quanto fossi sbigottito per gli angeli gli scheletri mi preoccupavano di più alcuni si stavano già rialzando ricomponendosi le mani ossute che cercavano le armi a tentoni guai in vista dissi portateci via di qui gridò talia gli angeli le scoccarono un'occhiata dall'alto la figlia di zeus si potrei sentire un per favore signorina figlia di zeus chiese un angelo per favore i due si guardarono e scrollarono le spalle non mi farà male sgranchirmi un po decise uno e un attimo dopo una statua afferrava me etalia l'altra acciuffava zoe e grover e tutti e sei partivamo a razzo dritti verso il cielo sopra la diga e il fiume con i guerrieri scheletro che rimpicciolivano sotto di noi e i colpi di pistola che riecheggiavano sui fianchi delle montagne